E' arrivato uno, è arrivato uno! Erano in sotto? Anzi sì Ah, guarda di loro, si scannano tra di loro Sì In sotto, allora dovrebbe scoppiare una mina, no? Sì Insomma che? E' siano sopra Da un ed uno, da un ed uno E' eliminato Ha tirato te? No Vabbè, io lo tiro via un attacco di precisione, eh? Down e tingli, guai per double kill Tira un altro, tira un altro, sono sopra di noi Tira un altro, Dani Devi tirare l'attacco di precisione Cosa che sto? Cazzo sono Cosa, la maschera Davanti a uno Cento ui Ho sciolto l'altro, ho sciolto l'altro Sono sopra Sotto Cazzo E' eliminato E' ciao Dani E' ciao E' ciao E' ciao Dani E' ciao E' ciao E' ciao Dani E' la mancina E' cazzo Cazzo E' cazzo E' cazzo E' cazzo E' cazzo giocata benissimo mamma mia e intanto le nostre nuove team e noi sopportate bene